Con la festa della vita inizia a Novoli la costruzione della grande focara, il falò più grande del Mediterraneo, 20 metri di diametro e 25 di altezza, che arderà nelle notti del 16 e 17 gennaio in onore di Sant'Antonio Abbate, il protettore di Novoli. Accolti dagli sbandieratori di Oria sui carretti tradizionali sono arrivate le prime fascine, composte dai tralci secchi della vite. Ne servono 80.000 e provengono dalle immense distese di vigneti nelle terre del Negroamaro, dove la dopo più famosa è quella del vino Salice Salentino. Il parco del Negroamaro aveva l'idea e l'obiettivo di far riconoscere l'identità di un'area più vasta, che sta nei territori del cuore tra Brindisi, Lecce e Taranto, e poi il simbolo della focara che poteva esprimere questa potenza delle risorse socio-economiche e culturali del luogo. I volontari costruiscono questa grande pira utilizzando tecniche che vengono tramandate di padre in figlio. Da quanti anni costruisci la focara? Questa è la trentesima. Quando iniziano i primi di novembre dentro di me mi prende una cosa che è indescrivibile, quindi ci devo esserci per forza. Perché lo fai? Lo faccio perché mi piace e poi sono devoto a Sant'Antonio. Che cosa ti dà in cambio lui? Forza e salute. Nel segno della tradizione e dell'innovazione ogni anno la focara viene interpretata da artisti internazionali e quest'anno è la volta di Yannis Cunellis. Il discorso sulla focara di Yannis è un lavoro che tira in ballo innanzitutto l'aspetto mistico e sacrale, ma direi anche l'aspetto delle due religioni, della religione greca e della religione cristiana. Lui ha lavorato sulla croce greca, lavorerà sulla croce cristiana e cattolica e ovviamente sull'operazione delle pietre, delle fascine, della naturalità delle cose, quasi a far capire come rinsaldandosi nei confronti della storia e della tradizione si possa solamente in quella maniera guardare in avanti. Ma gli effetti speciali non sono finiti qui. Ci sarà Don Pasta con una sua performance che trasformerà un momento prima dell'accensione la focara in un grande schermo, proiettando immagini tali che apparirà che la focara racconti di se stessa e dal popolo che la costruisce. Infine intorno al fuoco si balla e la focara fa proposte sempre più giovani. Approfittando di un DJ molto famoso ormai, uno dei DJ più importanti in Europa e nel mondo, Gioli Mare, che è di Novoli, ha le sue radici di Novoli, un nuvolese doc che vive il paese, vive la festa, anzi ci abita proprio vicinissimo. Abbiamo cercato di fare un incontro, una commissione tra i nostri artisti locali, aperti comunque al mondo e artisti già affermati a livello internazionale. Ma guai a lasciare Novoli senza aver prima degustato il piatto tipico che tutti i novolesi preparano nelle loro case. Il 17 gennaio, invitando amici e parenti, sono gli gnocculeggi al sapore di mare che potrete degustare nella locanda, mangia in terra e succia tesupra. Gnocchi conditi con sugo ai frutti di mare e crostacei che celebrano l'incontro tra il mare e la terra, la vera anima del Salento dove i suoi abitanti erano tutti pescatori e al tempo stesso contadini. È un piatto tipico di Sant'Antonio, gli gnocchi è una pasta fresca quindi la gente comunque lo fa in casa e già questa è una cosa tradizionale. Poi vi vengono aggiunti gamberetti, seppioline, calamari, cozze, quindi un po' di tutto e tanto tanto amore. Grazie.